Questo giovedì entrano in vigore le nuove regole sull'IVA nel commercio elettronico. Erano 28 anni che non accadeva. Obiettivo? Favorire la concorrenza fra le imprese comunitarie e quelle extra comunitarie che riuscivano ad ottenere dei vantaggi eccessivi perché non pagavano l'imposta per il valore aggiunto. Più IVA significa un gettito fiscale di circa 7 miliardi di euro all'anno per le casse pubbliche comunitarie. Ma cosa cambia per i consumatori? Innanzitutto sarà il cliente a dover verificare se l'IVA è inclusa nel prezzo. Spetta al consumatore verificare se l'IVA sia inclusa o meno nel prezzo finale. Se l'IVA non è inclusa, allora oltre al prezzo di acquisto della merce ci sarà l'IVA da pagare ma anche le spese di trasporto ed eventuali dazi doganali. In caso contrario è necessario scoprire quale sarà l'importo aggiuntivo che verrà aggiunto. In generale il costo aggiuntivo, almeno se parliamo del Belgio, sarà di circa il 30%. E che cosa cambia per le aziende? In primo luogo le merci che costano meno di 22 euro non saranno più esentate e saranno soggette ad IVA. In secondo luogo le aziende extraeuropee che fatturano oltre 10.000 euro dovranno registrarsi su un sito web anche se gli esperti consigliano a tutte le aziende di farlo. Il cambiamento sarà che le aziende non europee avranno la possibilità di registrarsi in un punto specifico in Europa. Si chiama One Stop Shop. Se l'azienda non opta per questo sistema, allora essa deve registrarsi in tutti gli stati membri e dovrà espletare tutte le formalità doganali. Questa riforma, oltre ad avere conseguenze economiche però, potrebbe averne anche a livello di rapporti internazionali, come spiega un esperto. Mi sembra che tutto torni. Di questa operazione la Cina non è assolutamente contenta di quello che sta accadendo. I rischi sono elevati ma in un certo modo bisogna pure iniziare. Adesso vedremo dal primo di luglio cosa accadrà e quale contomisure, soprattutto, quindi prenderanno paesi tipo la Cina. Questa dovrebbe essere dunque la fine dei furbetti che non hanno mai pagato l'IVA. Per le aziende è stata introdotta una modalità di dichiarazione a pagamento notevolmente semplificata. Per il consumatore sarà necessario assicurarsi che l'intero costo del prodotto ordinato online sia compreso nel prezzo finale.